Si respira già aria di elezioni a Cremona, per carità nessuna crisi di giunta, solo il rinnovo dei direttivi di alcuni comitati di quartiere, Sant'Ambrogio in Crocetello, Via Sesto, Cavaticozzi, Picenengo, San Predengo, Zaist, Maristella, Quartiere Po e Cascinetto. Ora è tempo di assemblee, dal 25 settembre in poi, con qualche lacuna, il direttivo di Quartiere Po infatti è dimissionario da maggio, altri sono già scaduti da mesi, resta da stabilire a chi spetti pertanto indire gli incontri. È in corso una revisione del regolamento, revisione che dovrebbe ovviare anche a questa problematica, ma ad oggi non è ancora giunta conclusione. Nel frattempo si raccolgono le candidature fino alle ore 18 del quindicesimo giorno, antecedente la data delle elezioni, per poter poi pubblicare nominativi almeno una settimana prima, alle urne poi tra il 28 ottobre e il 4 novembre, come decisero l'Ufficio Periferie del Comune.